A Toronto un giornalista ha detto che i nostri documentari sono come gli uccelli di Hitchcock, cominciano come commedie e poi diventano drammatici. Per questo abbiamo scelto questa scena, perché è una di quelle più complesse del film. Come sempre nei nostri lavori le scene non sono scritte o provate prima, tutto è improvvisato, non seguiamo una sceneggiatura. Beh, d'altronde non siamo attori, non sapremmo farlo. Qui siamo all'università di Barcellona dove usano la realtà virtuale come terapia per gli uomini che hanno commesso il reato di violenza domestica. Volevamo far capire ad un uomo come ci si sente nei panni di una donna. Qui potete vedere come Luca all'inizio del test è molto spavaldo. Non sembra prendere molto seriamente la cosa, ma più andiamo avanti con la scena, più si vede come la postura di Luca cambierà. Alla fine è completamente annichilito, vedrete. La voce dell'uomo nel video che ci ha fornito l'università non era molto minacciosa, sembrava un po' paperino. Con la montatrice del suono abbiamo così deciso di aggiungere un filtro per renderla più minacciosa. Sì, se devo essere onesto mi ricordo che all'inizio ho faticato un po' a medesimarmi e invece poi c'è stato un momento in cui ho veramente pensato a come devono sentirsi molte donne quando magari la sera il loro compagno, il loro marito torna a casa ubriaco e allora da quel momento mi ricordo che la cosa è cambiata. No, you don't. It's because I fucking love you. That's the fucking fat, stupid piece of shit that you've become. You are so rude. Infatti poi ti ricordi alla fine del test mi sono misurato la pressione, era molto alta, ero veramente devastato. Oh my gosh, nobody treat me like that, never. In my life. Yeah, so you can take out. Ok, are you feeling fine? It was horrible. Nobody treat me like that before. Nel film, questa scena costituisce un turning point perché da questo momento l'atteggiamento di Luca sarà diverso.